Ciao Siamo pronti Mi avevo detto che me le portavo al seminario quando erano pronte le tonache Che seminario? E mo che c'entra con noi? Ma poi siete Che volete? Lui si sposta Volete l'abito? Veramente abbiamo portato spumante Volevo festeggiare la Dio al celibato Volevo vedere pure andare Oh, ma di me avete portato Ma che a me è una struzza Ma perché? Se le altri ve li pigliate, i nostri puzzano, eh? Volevo vedere e fai andare, cos'è il top Allora Qui Allora Eh, c'è stata? Come è andata? Avvocato Trova una soluzione Qua ci vuole una soluzione? Una soluzione Questa è la soluzione? Questa è la soluzione? Questa è la soluzione? Questa è la soluzione?